no salve a tutti e ben tornati in questo nuovo episodio di minecraft allora finalmente che episodio? per secondo il sedicesimo mi pare quindicesimo con le blaze sedicesimo, diciottesimo sedicesimo il viaggio diciottesimo perché ne ho fatto un altro diciottesimo ho perso il filo e a venti cosa succede? a venti non lo so speciale pensavamo di portare in cucina con 9 electric esatto una serie nuova una nuova stagione dove andremo a cucinare perché ci ispiriamo a hamburghese esatto proviamo a a cucinare qualcosa esatto e dopo te lo mani esatto allora ci sono delle righe, vero? eh 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 eccoci qua, allora stiamo andando c'è da là una casa nella strega si occupa la strega se no ti viene rimodernata si devo ancora finirla va bene andiamo verso il tramonto andiamo verso il tramonto adesso ricordarci dov'era mi pareva che fossi di qua perché ho scoperto che la strada era molto corta aspettate è arrivati no c'è qualcosa che non va per te allora è stato scelto una ossidiana la sera eccola da qua qua abbiamo un coso perché non abbiamo detto niente di questo episodio abbiamo ho trovato un fracco di roba ho trovato un pompio del mare un dojo sottomarina che se riusciamo oggi andremo a esplorarlo ma volevamo andare prima alla miniera la miniera che ho trovato volevamo andare a esplorarla in questo episodio se riusciamo a trovare la strada per uscire dove era la palude? io ero sicuro di essere arrivato no aspetta beh nemmo avanti ancora lì ancora lì l'ho vista sotto ho visto una roba sotto terra ho visto tipo delle fiaccole sembrava una miniera si se ci sono fiaccole si guarda a sinistra poi non è una miniera no? cos'è? è una zona che ho scavato io qua sotto ah è il tuo coso abbiamo un sponso ah perché abbiamo fatto il giro là c'è la ferrovia dove dobbiamo andare? e siamo tornati al punto di partenza dove dobbiamo andare? eh là c'è la ferrovia non c'è niente là c'è erba cazzo se no dove siamo noi? quella è la casa della strega ok eh no da lì è la tua casa che è riuscima eh sì che siamo nether ah che è un creeper quella che è la cosa del nether quella che è polpi e si ricomincia verso l'ignoto verso l'ignoto verso il lager siamo di nuovo intrapolati diciamo che ci vediamo quando l'abbiamo trovato esatto ci vediamo quando l'abbiamo trovato abbiamo magari eh abbiamo un'ora un'ora e passo sì l'abbiamo trovata vi faccio vedere guardate qua quanti cavalli ci sono la pianura dei cavalli guardate e questi sono solo alcuni sono solo alcuni oltre di là ce ne sono tanti altri e lì abbiamo la mini costruzione la mini costruzione e fortuna qui abbiamo il portus grazie entriamo adesso a miniera perché sono anche curioso dopo tutta sta strada perché neanche mi sia valsa la pena allora perché voglio prima riuscire a dormire che così se morivamo tornavamo qua ma non voglio tornarla in fondo anche se abbiamo non penso che moriamo fidati mangia però a parte quella che sono andato dove ho trovato dove ho trovato a cattarmi e farmela a casa prima qualche roba a quanti cavalli pesare porchi porchi là dietro c'è dei cavalli di là ci sono dei lupi la seconda era meglio qua si dobbò le era molto piaciante la zona qua anche i cavalini dobbiamo lo attacca il lupo lo stai facendo devi occupare la pepola e mi metto con la carne guarda che cattivo poco di dove finira poco di ma che inferocito guarda ma in due colpi è più forte di una spara si dal bo adesso posso tutte le cupa tutte grazie come ottenere carne gratis essere tranquilli dagli un osso dagli un osso non ce l'ho l'osso ho messo giù se no gli avrei dato vabbè dai andiamo nella testa mia tanto qua pieno giorno cazzo dai andiamo aspetta che fumo una roba voglio essere sicuro che sono dietro il letto allora una roba fatta così adesso andiamo a casa tua quasi qua ok ci sbottiamo di un po' inutile inutile ci starebbe anche una fornace tanto che l'ho per le fornace la lana non ci serve lì ci sta una fornace facciamo tipo una base una fornace di fortuna con tutto necessario tanto carbonoglomia il piccone non ho sai quanto è rotale può inculare tantissimo è vero il piccone mi serve ecco cioè siamo venuti qua senza piccone si 4 credo che bastino come piccozze no poi aspetta che illumino un po' la casa che non si sa mai ok l'area è illuminata possiamo andare aspetta dov'è che si entrava da lì no vedi qua vabbè cambia finalmente dopo anni siamo arrivati a sta benedetta miniera e non ci sarà niente no c'è ci sarà ma ascolta stai andando tre volte che ci si attorno cazzo voglio portarmi il letto voglio vedere se in miniera posso dormire ovvio che puoi di notte e vedi l'orologio è utile beh dai andiamo vediamo che posso anche curioso qua tanto che è del carbone che mi pare detto tanto che potevi prenderti un coso in che? un piccone decente non avevo finito il ferro è quello lì destra destra anche lì si anche qua comunque si già da adesso c'è così tanto materiale si marcia bene direi vediamo quanto ferro riusciamo a ottenere beh qua c'è un bel c'è due gradini che abbiamo fatto qui sotto è quello lì no no quello è perché ci lascia la torcia grazie adesso adesso a sinistra aspetta che mi organizzo allora e mi metto la spada quella buona magari ok di lì si cos'è quella quella una mia tela che ok sono arrivati eccolo si scomisce subito avanti al prossimo chi è dove è lo che è dove è questo che non capisco sono su 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 la stessa tanto per un ragno schifo prenditi la tela no non mi serve mia vediamo cosa c'è di là oh lì dritto non ci siamo andati che cazzo mamma ma le rotaie puoi farle anche puoi far diventare una rotaia normale no una rotaia no vedi quando è lag qua non c'è niente il rotaio è una cesta o un vagone no ciao è che c'è un altro piano eh ok ma guarda sia a sinistra wow 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 quanta eh eccola lì eccola lì no che figliate che è brutta niente semi di anguria un paio di prendo su che buona tors prendi tutti la mera prendi tutto cazzo un po' di torsia ok anche il vagone sì o anche ho qualcosa limitato ovvero non è che ho beh un vagone e di là dritta è che non sei andato dritta voglio dire lì aspetta aspetta vediamo cosa c'era là dove eri prima se vai dritta oltre l'acqua ci si sa se c'era no secondo me se vai oltre l'acqua non eh no c'è ancora miniera cerca di bloccarla non so mettici qualcosa ma torni come te l'arroggio no no c'è in che blocco c'è l'attività oh ottimo vedi che c'era ancora miniera no aspetta no no c'è cazzo è stato detto che non vi era un cazzo eh però volevo la pena controllare in teoria ci sono le librerie qua no come no vai vai buttati non mi butto dove ci sono gli scheletri ci siamo lo fai anche se cadi lì non ti fai danno mmm non hai più torce io direi che è meglio rifornirsi un attimo di torce è una 57 che tacca e no insomma è 64 ecco adesso faccio meglio io voglio sapere dove sono questi diamini di scheletro fatevi sotto infami io potrei per lì adesso non c'è niente non c'è niente non c'è niente non c'è niente come si sale di qua come si sale ok è innesso a destra sai cosa ci starebbe dovare portare the land qua eh sì lì giù no no ah lì giù cosa c'è wow ma ancora più sotto c'è un altro livello ancora più sottarello c'ho detto che tre livelli passa ecco quello è un ragno quello è un ragno c'è anche uno zombie infame non ce la fa solo fa che c'è l'agga attaccarti sì esatto vediamo lì cosa c'è che illumina da solo lì non c'è mai passato c'è qualcosa che illumina lì sopra lì sopra sì aspetta un attimo che cos'è c'è una torcia sicura o qualcosa sì una torcia naturale una torcia naturale wow devo dire che magari siamo vicini a qualcosa secondo me sì è una costruzione è immensa lì sotto lì sotto lì sotto lì sotto qua sotto c'è uno zombie no aspetta va è finita lì non c'è niente no no ancora no vada è chiusa la vedo da qua come si rompa la spada con la spada ok non c'è niente lì no ma che cazzo c'è no qua stavolta è finita finita ma almeno buonifichiamo l'aria va beh allora da che parte ci va di qua beh direi di seguiamo il buio non c'è niente non ci porta da nessuna parte il buio ma guarda una cosa prova una roba vai lì dove ci sono quei pannelli di legno lì guarda i pannelli di legno lì si partava spaccano no 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 cazzo perché ci sono i pannelli spaccano spaccano vabbè prova infatti sentivo lo zombie vicino che c'è un altro livello andiamo allora andiamo in avanguardia così avevo immaginato ci fosse un luogo del genere no io voglio sapere dove cazzo è quella zombie di merda beh ma è lì giù dai ecco ringraziami ben minchia luce luce e lo prendiamo anche per la cassa un libro incantato cos'era infinità era stai scherzando guarda ma cosa fai perché vedi guarda meglio guarda meglio non c'è anche una rotaia potenziata sia che mi devi ringraziare a me cioè se non ti dicevo di spaccare questi due blocchi lì quel cazzo buttare un po' la metta un po' la non c'è se voi scemi cazzo ok l'abbiamo messo dentro abbiamo un libro con infinità finissimo se adesso non moriamo siamo morti cioè ne va solo appena a far tutto sto viaggio sì siamo cioè prendi il binario dove il binario quello potenziato l'hai preso no è ancora lì e anche il ferro mi fare comodo beh lo prendo dopo allora io voglio sapere di qua dove cazzo si va beh ma due diamanti top bisogna andarvi lì ah sai cosa non hai preso il carrello beh è la stessa oh lì sopra cosa c'è lì sopra perché c'è P&D perché qua sopra ci sarà un altro livello eh vai spacca però cioè c'è tanta legna non è normale che si usi tanta legna appunto eh spaccano aspetta andate voglio vedere ah vuoi già ok scusami che non c'è un cazzo direi che è meglio che andi a spaccare là voglio evitare che mi cade uno zombie addosso però c'è anche di là ho visto quindi andiamo un attimo a vederti da cosa c'è di qua invece eh qua si continua non si riesce a saltare continuiamo anche c'è un cazzo è immenso è immenso io se lo so voglio uscire non posso uscire a meno che non mi faccio ammazzare beh insomma oltre torni su cosa ti serve il letto? per questo è la notte sì appunto lo sfrutto per questo mi ritrovo qua poi basta far una roba in caso è è immenso secondo me serviva un'accetta magari eh sì poco di cos'è? ma lì non c'è niente di qua si che c'è proprio ti so che c'è niente sono i creeper qua dietro ma non c'è neanche mezzo mob o un altro livello no questo è fine questa non è la cosa c'è lì? magari ci sono dei diamanti no non c'è quanto siamo di profondità? non so alti da che livello iniziano i diamanti? 11 siamo ai 40 no scusa vuoi un po' di rotaia? sì anche se morirò e le perderò tutte ma secondo me magari completando quelle che mancano c'è un piccolo problema sei corto di torce? allora cerca di fare un po' di economia via sinistra secondo me c'è qualcosa di grosso questo che vedi che non... un altro livello ancora sotto che cacchega cos'è sto ora? come era? la strega non si era la strega no io le streghe le odio strega ridata ma non ci sono non c'è mai niente c'è lì c'è ed è dell'acqua quella roba lì che cazzo? no era un bug è una strega sono sopra di noi eh vabbè insomma meglio vedi aspetta voglio portare la radona su un salvo specie il libro con infinite esatto che quello lì non lo trovi più né anche se esatto se pieghi allora ci rivediamo quando ci rivediamo quando abbiamo portato tutto in salvo però questo è tutto questo per questo episodio è tutto un saluto elettrizzante ciao